Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 24 settembre 2022, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV, leggeremo insieme i giornali, il resto del calino, Corriere Adriatico sulle pagine locali per rilevare una sintesi delle notizie che sono pubblicate, ma passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno. Oggi si festeggia la Beata Vergine Maria della Mercede, Mercede ovvero misericordiosa, patrona dei Mercedari, un ordine religioso fondato dallo spagnolo Pietro Nolasco nel XIII secolo. L'obiettivo era quello soprattutto di riscattare i cristiani finiti in schiavitù per opera dei saraceni che in quell'epoca con la pirateria assaltavano le città della costa, facevano razzia dei beni e portavano via donne, bambini, uomini, li facevano schiavi e li portavano nelle coste africane. E appunto l'intercessione della Beata Vergine Maria della Mercede, della misericordia, faceva sì che questi uomini si impegnassero poi per il riscatto di queste persone. Passiamo alle previsioni del tempo. Previsioni che vediamo che per il weekend si dimostrano insomma in peggioramento. Al momento la giornata è inizialmente asciutta, con cieli però via via sempre più offuscati e nel primo pomeriggio ci saranno delle piogge sulla Dossale e soprattutto nella zona dell'Urbinate. Sarà meglio invece il tempo nel sud delle Marche, nel centro e nel sud delle Marche, ovvero a partire dalla provincia di Ancona, poi in quella di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. I venti sulle coste spireranno da una direzione di est e sud-est, nell'entroterra invece da oriente e da est le temperature si aggirano dai 14 ai 25 gradi fresco al mattino, più caldo intorno alla metà della giornata sul mezzodì. Apriamo il giornale sulla pagina di Fano, il Corriere Adriatico. Vediamo che si parla di un incidente, un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in prossimità della serata. Falciate sulla statale, gravi due giovani. L'Adriatica si conferma ad alto rischio. L'incidente si è verificato in Viale 12 Settembre all'altezza dell'Istituto Tecnico Battisti di Fano. L'investimento ha causato la ferita a due donne che sono state portate all'ospedale regionale. Il conducente invece dell'auto, si tratta di una Toyota, è stato portato a San Salvatore. Duplice dunque investimento in Viale 12 Settembre in prossimità di un attraversamento pedonale. Non è la prima volta che capitano questi incidenti in quella strada. È il tratto urbano della statale Adriatica. Il traffico di attraversamento è molto intenso e nonostante che siano segnalati gli attraversamenti pedonali capitano spesso gli incidenti. Purtroppo anche mortali una ragazza è morta, per esempio, all'altezza della palestra Venturini. Le giovani donne ferite sono una 22enne fanese e la sua collega di qualche anno più grande che vive ai colli al Metauro sarebbero state, come ho detto, trasportate agli ospedali riuniti di Torretti di Ancona, mentre l'automobilista è stato ricoverato a San Salvatore di Pesaro. L'investimento è avvenuto sulla corsia sud di Viale 12 Settembre, in prossimità appunto dell'attraversamento pedonale all'altezza dell'ex Istituto Battisti da un lato e dall'incrocio con Viale Mariotti dall'altro. Quindi ora indagano la polizia locale per stabilire le cause di questo incidente. Di sesto, la Regione dia i contributi per i piani. È una iniziativa, questa del sindaco di Fano Massimo Seri, che ieri ha emesso un comunicato stampa nel quale segnala l'esempio di Puglia ed Emilia Romagna. Chiedo alla Regione, ha detto, distanziare contributi per far fronte alla consulenza tecnica di accompagnamento per la stesura dei piani, mettendo i comuni nella condizione di evidenziare e far fronte alle criticità. Dopo l'alluvione che ha colpito le Marche, il sindaco chiede una programmazione da parte della Regione Marche per contrastare il dissesto idrogeologico. Insomma, bisogna correre ai ripari in maniera definitiva, non aspettare sempre l'emergenza, ma premonirsi quando la situazione è calma e c'è tempo appunto per fare i piani, premonirsi per evitare i disastri che si sono verificati. I giornali ovviamente parlano questa mattina di elezioni, è una giornata di silenzio per quanto riguarda la campagna elettorale. Su questa pagina del Corriere Adriatico ci sono le condizioni d'uso per rispettare il voto, ci sono le condizioni di favore per chi ha difficoltà di recarsi ai seggi, chi ha bisogno di esercitare il voto assistito, insomma ci sono i numeri telefonici a cui fare riferimento e c'è anche indicazione per chi ha esaurito la scheda e deve avere un'altra scheda per dove si appongono i timbri per le elezioni. Senza quelle e senza il documento di identità, insomma al seggio non viene accettato. Carnevalesca. Carnevalesca si vota il 16 ottobre prossimo, si rinnova il Consiglio d'Amministrazione, ma intanto nei giorni scorsi, il 15 settembre, c'è stata un'assemblea nella sede della cooperativa Tre Ponti per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021. Un esercizio diverso rispetto al passato, dato che prima i bilanci si chiudevano nel mese di agosto, ma questa volta, grazie anche ad una variazione statutaria che è stata approvata da una precedente assemblea, l'esercizio finanziario è stato definito dal 1 gennaio al 31 dicembre. E quindi questa volta il bilancio non è stato solo di un anno, ma di un anno e qualche mese in più. Ebbene, questa è stata anche una causa che ha portato ad un disavanzo di bilancio. Dobbiamo dire che il bilancio del 2021 si è chiuso con una perdita di 32.213 euro, che però ha una spiegazione e poi è stata ricoperta da una perizia giurata di beni appartenenti alla carnevalesca per un valore di 20.000 euro, per cui poi con le attività a disposizione il pareggio di bilancio si è comunque ottenuto. Dicevo che è stato un anno speciale, perché è stato l'anno della pandemia, l'anno in cui ci sono state le spese ma non ci sono stati gli incassi, perché la sfilata dei carri non si è potuta svolgere. Insomma è stato un anno particolare che bisogna mettere da parte, bisogna dimenticare. Ogni tanto ce ne sono di questi anni nell'attività della carnevalesca. Ricordiamo alcuni anni fa, diversi anni fa, quando addirittura fu distrutto un tendone nella zona dell'ex caserma Montevecchio da un gran fortunale e ci furono tanti tanti danni e tante tante perdite. Però insomma attualmente la situazione economica non preoccupa. C'è anche un tentativo di far sì che poi i beni del prossimo presidente della carnevalesca non vengono messi a garanzia dell'attività dell'ente e quindi c'è tutto un programma per ricostituire l'assetto finanziario della società. E già si lavora per il 2023. Il vecchio consiglio è già in contatto con quello nuovo. Ma qual è quello nuovo? Voi direte. Ebbene c'è solo un gruppo che si presenta alle prossime elezioni al momento. Quello che l'antagonista, quello cappeggiato da Fabio Barniesi, al momento non si fa più sentire, quindi probabilmente non si presenterà alle prossime elezioni. Quindi è facile interfacciarsi con se stessi o giù di lì, insomma, per quanto riguarda il prossimo consiglio d'amministrazione. Il patrimonio enogastronomico diventa cultura del saper vivere. Questa è un'altra manifestazione che si svolge periodicamente a Fano. Si tratta delle giornate della città da gustare. Sette giornate dense di iniziative che si svolgeranno a Fano dal prossimo 27 settembre al 4 ottobre. Sette giornate per parlare di cibo ed etica, ristorazione e ospitalità, grazie al supporto della tecnologia agroalimentare. E poi l'articolo che vedete su questa pagina pubblica un po' il programma di attività. E qui vediamo un po' gli animatori di questa iniziativa. Paolo Pagnoni, che è stato un insegnante dell'alberghiero di Pesaro. Vediamo poi il giornalista esperto nel settore enogastronomico, Alfredo Antonaro. E Domenico Consoli, per quanto riguarda questa attività esperto anche nella tecnologia multimediale. Passiamo a Fossombrone. Passiamo a Fossombrone per condividere questo titolo. Che bella scoperta l'anfiteatro del parco. Il recupero dell'anfiteatro nel parco fluviale di Borgo Sant'Antonio a Fossombrone ha segnato non solo la riscoperta di un sito abbandonato, di un sito che veniva lasciato in disparte, ma anche del teatro popolare, una struttura che serve per animare culturalmente la città metaurense. E poi, girando pagina, troviamo un articolo che riguarda Marotta. Marotta si era preoccupata per quanto venuto a Senigallia. Marotta è prossima al Cesano, un fiume da tenere sempre sotto controllo. Ebbene, Marotta Nord sarà protetta grazie a lavori per 3 milioni di euro, una cifra considerevole per realizzare il nuovo canale di raccolta delle acque. Prenderanno il via tra qualche giorno gli importanti lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato nord di Marotta, con la realizzazione del nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche in via Corfu e in via Chienti. L'importo esatto è di 2 milioni 770 mila euro, grazie alle risorse messe in campo per opere che contribuiranno a ridurre l'annoso rischio ereditato dal comune di Fano. Ebbene, da tanto tempo Marotta soffre del dilavamento delle acque che sopraggiungono dal confine collinare che divide dal comune di San Costanzo, poi c'è ovviamente il comune di Vandolfo a cui appartiene Marotta, queste acque che hanno ottenuto un problema, hanno provocato un problema nel momento in cui si è realizzata l'autostrada perché è stata quasi una barriera dove l'acqua poi ha debordato dai propri limiti. A Senigallia si fa la stessa cosa ed è questo un annuncio del sindaco Olivetti che lancia un SOS per delle crepe che sono verificate dopo l'alluvione in modo particolare in centro storico. Sono ben visibili le crepe sul lato che si affaccia su via dei porti Ciercolano e via 20 settembre potrebbero non reggere di fronte ad una nuova piena e quindi far passare un quantitativo maggiore di acqua. C'è una nuova allerta meteo per il fine settimana, per oggi e per domani e quindi bisogna intervenire perché molti punti sono lesionati. In questo caso, dopo quanto è avvenuto, prevenire quello che si può prevenire è una cosa non solo giusta ma opportuna. Ed ora diamo un'occhiata anche alle pagine che riguardano le elezioni di domani. Politiche ma anche un test per la Regione Marche. Tre temi e l'incognita stensione. Marche alla vigilia del voto tra ricostruzione con alluvione annessa che certamente influirà sul voto dei marchigiani. C'è un'inchiesta in atto, ognuno ha una sua concezione per quanto è avvenuto e probabilmente questa influirà, afferma il Corriere Adriatico, nell'espressione del voto. Emergenza, infrastrutture e rincari. Bisogna intervenire in modo particolare per regolare, per gestire il territorio. Vediamo il confronto che viene fatto con le due ultime elezioni, le politiche del 2013 per la Camera nelle Marche e le politiche del 2018 per la Camera delle Marche. Vediamo appunto i vari risultati che sono stati ottenuti. E poi in questa seconda pagina abbiamo il Vademecum per le urne. Onorevoli il 36% in meno. Per la prima volta anche i diciottenni voteranno per il Senato. E niente, voto disgiunto. Ancora, ecco tutti i candidati alle elezioni. Abbiamo di tutti le fotografie, l'appartenenza politica, il collegio nel quale si presentano. La Lega schiera gli assessori. Carloni a Pesaro, Latini a Macerata. Sono gli assi della giunta a Quaroli scesi in campo. Cronaca di una vittoria annunciata, De Poli e Leonardo, i collegi del Senato, sembrano un affare privato del centro-destra. Ebbene, si dà per scontata la vittoria del centro-destra, ma tutti quanti sono molto ansiosi di vedere i primi ex poll per vedere se questa previsione verrà confermata o meno. li riconoscete? Quindi se avete ancora dei dubbi, vedete un po' i personaggi che sono candidati alle elezioni e fate la vostra scelta. Qui in queste due pagine, vedete, Camera e Senato. Sono qui appunto i candidati. E poi abbiamo i simboli. Ci sono dei simboli nuovi, simboli che non si conoscono, a parte quelli consolidati, come quelli del Partito Democratico, come quelli di Forza Italia, come quelli del Partito Comunista. Insomma, sono ormai simboli storici, ma ce ne sono tanti che invece cambiano di elezione in elezione. Ed ora passiamo alla notizia vera del giorno. La notizia vera del giorno è il ritrovamento del piccolo Mattia. Il piccolo corpo trovato a 13 chilometri dal luogo in cui era scomparso. Speravo non lo trovassero più. È il papà che ha detto questa espressione il dolore mi annienta. È stato riconosciuto dalla maglietta che indossava da Castelleone. Il fiume l'ha trascinato fino a tre castelli. L'ha trovato il proprietario di un campo. L'ha visto sotto il fango nei pressi di un albero. Ha subito capito che era il piccolo Mattia. E qui vediamo le fotografie del luogo dove è stato ritrovato il corpicino. Il ritrovamento vicino all'ex ristorante la cascina di Passo Ripe. Il corpo di Mattia è stato trovato in un campo accanto a via Santissima Trinità a Passo Ripe di tre castelli. E qui vediamo il proprietario del terreno che l'ha ritrovato. Lo strazio di due comunità adesso gioca con gli angeli. San Lorenzo in campo e Barbara il dolore di sindaci e di parroco ma il dolore direi di tutta la comunità non solo appunto di questi due paesi di queste due frazioni ma di tutte le marche perché Mattia Luconi è stato un po' il simbolo delle vittime di questa grande tragedia che ha colpito la nostra regione. una tragedia enorme ma abbiamo un corpo sul quale pregare e afferma una didascalia. Aziende devastate ecco gli altri fondi in attesa del governo. La regione delibera lo stanziamento di 4 milioni di euro garantito da Confidi. Sarà a disposizione delle piccole e medie imprese che abbiano 250 addetti e 50 milioni di fatturato. Vediamo come vengono ripartiti questi fondi. Sono in realtà 4 milioni e 200 mila euro è il plafond a sostegno delle imprese. Lo vediamo qui in questa tabella di cui un milione fondi FESR da precedenti programmazioni. Un altro milione e 250 mila euro provengono dai fondi della Camera di Commercio. 1 milione e 392 sono i fondi regionali 500 mila euro dalle programmazioni FESR e FSE dal 2007 del 2013. Le imprese ammissibili appunto sono le piccole e medie imprese fino a 250 addetti. Il finanziamento bancario arriva a 150 mila euro e l'importo massimo 8 anni la durata appunto di questi sussidi. Lo sciopero per il clima tra frango e contestazioni imbrattato dai manifesti palazzo dei manifestanti scusate palazzo Raffaelli vedete qui il fango gettato nelle mura del palazzo della regione sacche di melma sulle scale e sui muri nel corteo anche i cittadini di Senigallia portiamo l'alluvione nei palazzi del potere è il segno di una protesta di un grande dolore che ha colpito le popolazioni delle Marche che ora si ribellano contro chi non ha avuto il sentore di prevenire questa grande tragedia questo maltempo che si è scatenato improvvisamente sulla nostra regione ed ora è tempo anche di stabilire le rispettive responsabilità lasciamo questo argomento e vediamo un fatto di cronaca si divide il processo bruzzese rito abbreviato per i due sicari si spacca in due tranci il processo che si svolge per l'omicidio di Natale il Natale è la data con cui si è svolto si tratta del 43enne Francesco Candiloro e del 44enne Michelangelo Tripodi considerato dalla procura gli esecutori materiali dell'assassinio di Marcello Bruzzese i quali hanno scelto il rito abbreviato per farsi giudicare il 55enne Rocco Versace ha invece deciso di procedere con l'ordinario in caso di rinvio a giudizio si aprirà il dibattimento davanti alla corte di assise di Pesero località dove è avvenuto il barbaro assassino e per quanto riguarda la cronaca vediamo anche la querela che il presidente provinciale della Confcommercio Amerigo Varotti ha spiccato contro Umberto Carriera per diffamazione darò in beneficenza il risarcimento che otterrò da questa querela ha detto Amerigo Varotti si tratta di un diverbio che è nato durante il periodo più oscuro della pandemia quando obbligatoriamente i ristoranti dovevano essere chiusi e Umberto Carriera aveva accusato Varotti e la Confcommercio di non difendere adeguatamente gli interessi dei ristoratori e poi si torna a parlare già da ieri l'abbiamo visto del biodigestore adesso vengono convocati d'urgenza il Consiglio Comunale dopo lo strappo di Ucchielli la richiesta dell'Associazione Diversamente adesso si è aperta veramente una crepa dopo che Ucchielli ha contestato anche lui il biodigestore una crepa del monolite dell'amministrazione comunale rispetto al progetto del maxibiodigestore a Talacchio e ovviamente ci si getta l'Associazione Diversamente si è detta sempre contrario alla realizzazione di questa struttura ed ora passiamo al resto del Carlino dove si parla dello stesso argomento ma da un altro punto di vista non si parla di Talacchio ma si parla di Barchi biodigestore lavori al via entro fine ottobre e qui si dovrebbe si pensa che si proceda a lacramente è la società Feronia che si è assunta l'incarico di realizzare questo impianto per un investimento considerevole 27 milioni di euro che Feronia pensa di reperire attraverso le banche e i finanziatori privati Feronia è pronta è pronta per partire con la costruzione del biodigestore anaerobico da 50 mila tonnellate a Barchi accanto all'area dell'ex discarica i lavori saranno avviati entro la fine del mese di ottobre l'obiettivo è far entrare in funzione l'impianto entro il 31 dicembre del 2023 ovvero un anno poco più per realizzarlo per beneficiare così della proroga degli incentivi statali per la produzione di metano il nuovo impianto infatti produrrà metano sia per l'autotrazione sia per alimentare parte del fabbisogno energetico della provincia di Pesaro Urbino l'antico palazzo ducale è di terre roveresche palazzo ducale nella frazione di Montebello un palazzo ducale un palazzo medievale antico che pochi conoscono ma in realtà è una delle meraviglie del nostro territorio e risalente al quattordicesimo secolo palazzo ducale dal 1609 divenne residenza della sorella dell'ultimo duca d'Urbino Francesco Maria II della Rovere ebbene si trattava di la vigna feltria della Rovere la quale vi tenne una splendida corte abitandovi fino alla morte nel 1632 e nel piano nobile di questo palazzo ci sono quattro stanze che conservano stupende decorazioni in stucco del Brandani così come un grande camino del salone principale veramente bello sarebbe interessante che questo palazzo che era stato acquistato da una società per farci un albergo invece il comune ha fatto valere il suo diritto di prelazione fosse adibito così come è intenzione del sindaco sebastianelli di realizzarvi un museo e quindi aprirlo alle visite della cittadinanza ciclovia il comitato pioggia di espropri è la conseguenza della decisione di realizzare la nuova ciclovia del metauro adesso nel tratto trafano e cartoceto quindi si segue un po' la direttiva della valle fino a Lucrezia si è voluto abbandonare un tragitto lineare di 17 chilometri fino a Colli del Metauro protesta il comitato della ciclovia che difende il percorso a fianco alla ferrovia e dice che ci saranno molti molti espropri oltre 827 mila euro di espropri 660 mila 440 è il valore dei terreni nel comune di Fano 91 mila 838 quelli nel territorio di Cartoceto bene con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa vi auguro un buon weekend vi do appuntamento a lunedì alle ore 7 e vi auguro dunque una buona domenica sperando che il tempo sia clemente perché si avvicinano delle nubi oscure e questo è tutto per il momento a risentirci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.